Vediamo allora nel dettaglio i sostegni previsti nel decreto del governo nel servizio di Alessandra Orlando e poi l'intervista di Fabrizio Frullani al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Con il nuovo intervento per frenare il caro bolletto il governo stanzia 1 miliardo 700 milioni di euro in aggiunta ai 3 miliardi 800 milioni previsti dalla legge di bilancio per il trimestre gennaio marzo in totale 5 miliardi 500 milioni questa volta gli aiuti sono rivolti soprattutto alle imprese 1 miliardo 200 milioni arriverà con il taglio ai cosiddetti oneri di sistema che pesano sul prezzo finale dell'elettricità e finanziano altre voci alle finanze pubbliche per compensazione andrà una parte del ricavato delle aste sulle quote di CO2. Ridotte del 20% le bollette delle aziende che consumano più energia alle quali va anche un accredito d'imposta del 15%. Previsto un intervento sugli extra profitti per gli impianti fotovoltaici e rinnovabili ancora da quantificare. Inoltre al trasporto pubblico locale vanno 80 milioni per aumentare l'efficienza del servizio. Per la manutenzione della rete ferroviaria italiana andranno 10 milioni l'anno fino al 2034. Il decreto contiene misure a sostegno dei settori più in crisi in seguito alla pandemia. 390 milioni gli aiuti al commercio, tessile e moda, turismo, spettacolo e sport. Ministro oggi nel coazione dei ministri via libera alle misure contro il caro bollette. Ministro oggi nel riносito dal